buongiorno a tutti oggi prepariamo un altro piatto con una verdura arriva da sri lanka questo proprio arrivato da lì questo che si chiama uno tipo di banana però noi chiamiamo a luca questo non è un come non può usare come un frutta a volta e matura però serve tanto tempo perché questo normalmente mangia come un piatto salato oppure può fare come chips tagliare fettine sottili si può friggere come patina che si può mangiare questo è una piatta veramente una verdura non è una frutta allora io ho già preparato 250 grammi di questo alukel questo banana questo tipo di banana verde 2 3 spicchi di aglio una cipolla una scalogna due peperoncini secchi se ce l'hanno verdi molto meglio qualche foglia di cari mezzo bicchiere di latte di cocco mezzo cucchiere di cari mezzo cucchiere di sale un cucchiaino di fenugui un cucchiaino di senepe in polvere mezzo cucchiaino di curcuma prima cosa devono tagliare questo cipolla aglio come pezzatini piccoli e poi andiamo pulire come questo banana adesso faccio vedere come pulire questo banana io ho già preparato due piatti o due ciotoli con po di acqua con po di sale oppure può usare un pezzo di limone un po di succo di limone perché se no questo è anche cambia colore come carciofi io non butto quella buccia perché questo buccia anche noi tagliamo pesatini friggiamo e poi facciamo insalata con po di e cipolla e con di peparencini verde quella anche un buon piatto non faccio vedere come fare un altro giorno comunque per cucinare come carri banana carri usiamo questo pezzi adesso faccio vedere come pulire queste due lati devono tagliare queste non serve più adesso togliamo buccia con un coltello piccolo taglia bene non tanto vedi così questo mettiamo lì altra se per friggere devono tagliare molto sottile però questo piatto non io non taglio sottile io taglio così pochettino spesso se per friggere devono lavare come e poi aggiungi pochettino di curcuma e poi può friggere può mangiare come un bel piatto con patatini adesso cominciamo a fare questo nostro piatto diciamo banana nel un pentola mettiamo questo banana già tagliato e poi aggiungiamo foglie de carri cipolla aglio peperoncini pezzi sale sale curry se ne pegato in pollare curcuma e semi di fenochic aggiungiamo un bicchiere di acqua e poi copriamo lasciamo finché questo è cotto questo momento e si può vedere con un cucchiaio o qualcosa questo era già cotto come patate adesso aggiungiamo latte di cocco molto difficile amalgamare con un cucchiaio meglio fare così puoi lasciare un'altra minuto sul fuoco finché bolle latte di cocco comunque questo piatto è pronto però anche tu è un'altra minuto